Ciao a tutti. Oggi guarderemo il nuovo trailer di Fortnite. Si lo so già è uscito. Però io come un ritardato bastardo troione di merda non ci posso giocare per ora per problemi alle piattaforme. Quindi niente. Sti cazzi e andiamo. E ora ci mancavano i mostri quelli dei Power Hager del cazzo. Ma che cazzo ha passato questo? Emo ci mancava questo per chiamare Dio e la sua famiglia. Io lo avrei detto che mettevano il coso per volare. Tanto vale mettiamo anche Gesù Cristo qui sopra. Visto che hanno messo ogni tipo di potere. Che dire. Fortnite diventa ogni volta più troione che è. Lui e i suoi poteri che faranno chiamare i angeli da cielo. Spero presto potrò giocare a questo nuovo Fortnite. Grazie per aver visto il video noi ci vediamo al prossimo video.